Catania è meta sempre più amata dai turisti europei. Per la precisione, in base ai dati raccolti da Jetcoast, la città etnea sarebbe la prediletta dai tedeschi. Andando nel dettaglio, dai risultati delle ricerche di voli per il mese di agosto 2024 è emerso che moltissimi turisti provenienti dalla Germania hanno optato proprio per Catania, città che piace molto anche a francesi, inglesi, spagnoli, portoghesi e olandesi. Catania e Palermo, ha dichiarato il direttore marketing di Jetcoast, sono due delle principali destinazioni turistiche del mondo, grazie ai buoni prezzi che offrono rispetto ad altre città. La loro ricchezza culturale, le loro usanze e feste popolari, le magnifiche spiagge, la ricchissima gastronomia e i loro ottimi alberghi continuano ad attrarre un gran numero di turisti che decidono di trascorrere qui qualche giorno di riposo. D'altra parte, anche molti italiani le hanno scelte per le loro vacanze, preferendole alle principali città europee e alle destinazioni a lungo raggio. Il nostro paese, sempre secondo i dati di Jetcoast, risulterebbe il secondo più ricercato per trascorrere queste vacanze, seguito dalla Spagna e preceduto soltanto dal Portogallo.